prepareremo un san pellegrino crusta ricchi gli ingredienti per questo cocktail sono 40 millilitri di amaretto la spremuta di limone un bar spoon di marmellata di arance rosse biologica e andiamo a mescolare con un cucchiaio shakeriamo con abbondante ghiaccio decoriamo il bicchiere con un crusta di caffè e versiamo all'interno di un tumbler alto utilizzando il passino per filtrare al meglio i pezzi grossi della marmellata colmiamo con aranciata amara san pellegrino ed ecco voi il san pellegrino crusta ricchi buona degustazione